Costantini Lui fondamentalmente ha fatto Talmente nulla Da non essere nemmeno riuscito a modificare il piano di rientro Del Turco, l'ho lasciato invariato Tant'è che è stato costretto a modificarlo Con i piani operativi che erano piani attuativi Determinando le sentenze del TAR Che gli hanno disintegrato le sue decisioni Dovendo ricorrere a Berlusconi che lo ha salvato Udite udite Trasformando in legge dello Stato I piani operativi, gli atti amministrativi Di organizzazione del sistema sanitario della regione Abruzzo Sono l'unico caso di Atto di organizzazione amministrativa Approvato con legge dello Stato Il governo quando a luglio Berlusconi gli ha sanato Questo vulnus che aveva determinato Le sentenze del TAR, stavano riaprendo Gli ospedali di Tagliacozzo, di Pescine Ha detto a Chiodi per questa volta Ti salvo, ma ti do 60 giorni Per farti il tuo piano sanitario Perché non puoi nel 2011, nel 2012 Continuare a governare col piano sanitario di Del Turco Però anche nel piano sanitario deve fare il consiglio Sto parlando di leggi Sto parlando di leggi Non sto esprimendo giudizi Perché la differenza tra quello che dico io E quello che ha detto lui Che io faccio riferimento ad atti normativi Con riferimenti precisi E lui fa riferimento a suggestioni Il governo Berlusconi ha detto a Chiodi Adesso ti salvo, ma hai 60 giorni di tempo Per fare il nuovo piano sanitario Sono passati non 60 giorni, 250 giorni E Chiodi continua ancora A dare attuazione Alle misure disposte da Del Turco Ma io voglio ribadire Io non voglio né colpevolizzarlo Perché non è che abbia colpe il Presidente Però non ha nemmeno meriti Ha semplicemente condotto Una situazione nell'ambito di quella Che era la direzione di marcia Imposta dalla legge Lui avrebbe tutt'al più Dal mio punto di vista Dovuto riconsiderare L'organizzazione del sistema sanitario Perché quello che scelse Del Turco Quello che scelsero Del Turco e Mazzocca Potrebbe andare bene nel 2007 Nel 2008 Oggi non va più bene Oggi abbiamo bisogno di rivedere Di riorganizzare completamente la macchina Quindi paradossalmente gli contesto Di aver aspettato troppo tempo Prima di presentare ai cittadini abruzzesi Una vera e propria proposta di riorganizzazione Che purtroppo tocca ancora a lui Fino a quando lui non consegnerà Un piano sanitario nuovo Noi non potremo ritornare In condizioni di normalità Se ne parlerà a marzo-aprile? Io ve lo auguro Ma sì Io penso proprio di sì Le condizioni sono queste Però ecco Anch'io voglio restare ai fatti Il collega L'amico Carlo Costantini Ha citato le sentenze del Tar Però dobbiamo anche ricordarci Che a ogni sentenza del Tar Poi è corrisposta A una sentenza del Consiglio di Stato Che puntualmente Che puntualmente ci dava ragione No perché le ha fatto la legge A persone In un paese Visto che siamo tutti e due Amanti della legalità In cui la legalità È un concetto molto labile Già soltanto il fatto Che Chiodi abbia saputo Seguire e interpretare Correttamente le norme di legge Mi pare già un passo avanti Però il problema È anche dire questo Che Chiodi Il suo governo E il PDL Non hanno avuto Solo un riflesso burocratico Di seguire le indicazioni Hanno anche saputo Lavorare sulla sanità Tutte le decisioni Assunte da Chiodi Con il subcommissario Baraldi Sono frutto di decisioni Prima discusse Trattate in Abruzzo Al tavolo Con i responsabili Delle alze E poi concordate A Roma con il tavolo di monitoraggio Che aveva difficoltà A volte a farci fare Dei passaggi importanti Ma invece ci siamo saputi Imporre Proprio anche per la serietà Che abbiamo dimostrato Nella gestione dei conti Per cui molte scelte Sui reparti Sulle nuove assunzioni Che pure ci sono state in sanità Il tavolo di monitoraggio nazionale Le ha fatte passare Ora detto questo Sembra che noi abbiamo fatto I ragionieri della sanità Non è così Noi abbiamo fatto anche Politica attiva E positiva nella sanità Lo ripeto Ci sono state assunzioni Sono arrivati Giovani Nelle strutture ospedaliere Nelle ASL Assunti o stabilizzati I reparti sono stati migliorati Sono stati acquistati Nuvi macchinari Poi è vero Ci sono le file Per carità C'è un problema strutturale Antichissimo Sulla sanità Ma insomma Non mi pare Che noi abbiamo tagliato Soltanto Dei rami secchi Abbiamo fatto Dei tagli Laddove queste cifre Erano male investite E abbiamo saputo agire Le gare uniche Per esempio Prima ogni ospedale Ogni ALS Comprava i macchinari O i farmaci Dove voleva I prezzi più incredibili Abbiamo fatto Delle centrali uniche D'acquisto Praticamente Si fa una gara unica In questo modo Risparmiamo moltissimo Queste sono scelte politiche Che non erano mai state fatte Ne parlano a livello nazionale Ecco Il famoso discorso Della comunicazione E' chiaro Evidente Che insomma Ognuno vede gli aspetti Più in ombra Più in luce Per quello che mi riguarda Però gli aspetti Sono in luce Poi io credo Che durante la trasmissione Parleremo anche di altro La sanità E' uno dei punti Del nostro corollario Della nostra azione politica Perché poi siamo intervenuti Sul mondo del lavoro Sul mondo dell'agricoltura Questo tra poco Però giustamente Era ovvio Giustamente partire dalla sanità Mi pare giusto Perché lo dicevo In fondo Il bilancio della regione E' in buona parte Insomma Gestito E' vincolato Dalla sanità Il bilancio della gestione E anche La capacità di spese E tassazione Degli abruzzesi Ovviamente Io non condivido Assolutamente Però ricordava Nella scheda Che noi avevamo Un commissario Che era redigolo In quanto il governatore Che naturalmente Come è accaduto In altre regioni Aveva dovuto essere Ha avuto Quei suoi problemi Con la giustizia Stiamo parlando Di Ottaviano del Turco Il momento in cui E' arrivato Chiodi Se invece Quel governatore Fosse stato Costantini Come si sarebbe comportato? In maniera Completamente diversa Su quali aspetti In particolare? Anzitutto Avrei spazzato via Quello che era stato deciso Dalla precedente Amministrazione Di centro-sinistra Avrei presentato Un nuovo progetto Di riorganizzazione Nella sanità Perché è vero Che nella sanità Si spende troppo Ma non si spende troppo Perché erano aperti Sette ospedali E sette pronte soccorse Che garantivano La sopravvivenza Di un infartuato Che vive Nelle montagne Della provincia Di Chieti I costi Di programmazione economica Somiglia molto Direzione generale Ma prodotte Si gira i pollici All'interno delle asle E che spesso è rappresentativo Di persone raccomandate E non si fanno I contratti di lavoro O gli affitti di vano d'opera Il personale tecnico Che serve per far funzionare Un attacco Una risonanza magnetica Che cosa accade? Accade che per la risonanza magnetica La lista attesa è di 10 mesi 12 mesi E il cittadino Se ne va dal privato A San Benedetto A farsi la stessa visita In un giorno In due giorni In tre giorni Che cosa occorreva? Occorreva il cervello Quello che è mancato La costruzione di un progetto La asle unica Avrebbe potuto dare Un validissimo contributo Perché avrebbe messo A sistema Le opportunità Di tutto il sistema pubblico Abruzzese Tradotto Se una risonanza magnetica Non ce l'ha A Teramo Il Teramano Piuttosto che andare da un privato A dargli 800 euro Avrebbe potuto acquistarla A Popoli Che poteva diventare Un centro specializzato Di diagnostica per immagini Questo vuol dire Costruire un progetto Perché se poi andiamo a vedere A fare i conti Le prestazioni Che vengono fatte Fuori dall'Abruzzo Sono le prestazioni Meno complesse Da un punto di vista tecnico Sono prestazioni Che potremmo produrre noi Con quattro soldi Allora dov'è La logica Dov'è il cervello Dov'è la strategia Quindi una asle unica Il taglio A tutta la pletora Di situazioni Che ruote E poi la meritocrazia Sul serio Io ieri Ho visto casualmente Il documento di programmazione Economica e finanziaria 2009-2011 Di Chiodi Il primo Quello vero Insomma Veramente siamo lontani Anneluce Qui si assumono Vincono i concorsi Gli assessori Si assumono i cognati Dei consigli Cioè qui praticamente Siamo tornati Al medioevo Non apriamo anche questa No voglio dire Dico che però Dal punto di vista La gestione clientelare Del potere Con questo governo Siamo tornati Al medioevo E quotidianamente Purtroppo Le pagine dei giornali Ce lo ricordano Poi Chiodi Non si può sorprendere Ma come mai Gli abruzzesi Non mi amano Poi così tanto Gli abruzzesi Giustamente Queste cose Le guardano Perché sanno Che dietro Questi episodi Che sono tutta più Di mal costume E non necessariamente Implicano responsabilità Penali C'è una sensibilità Che manca E c'è una scarsa attenzione Senta Chavaroli Ha sbagliato un po' tutto Poteva perseguire altre strade Ha preferito Curare certe clientele Che le meritocrazia Sono inconciliabili Tutt'altro Credo che Chiodi Il suo governo Torno a ribadirlo La maggioranza Il PDL Abbiano invece Molti Molti pregi Vede Un conto Sono i desideri Un conto Sono le indicazioni Anche giuste Che da Carlo Costantino Un conto però Sono i fatti Io so che c'era Un governo precedente Di centro-sinistra Nel quale c'era anche Il partito del collega Carlo Costantini Che sulla riduzione Delle ASL Non ha fatto nulla E' arrivato Gianni Chiodi E comunque Le ha ridotte Da 6 a 4 Beh non è così Te lo dico No no Certo Vabbè Possiamo interlocuire La riduzione da 6 a 4 Alla scadenza In cui è stato operato Era un vincolo Già previsto Dal piano di rientro Guarda Io so soltanto Che l'abbiamo fatto Io mi fido Naturalmente È stata una presa d'atto Conosco i documenti Noi però L'abbiamo fatto Abbiamo fatto Per esempio Lato unica Anche se adesso Ha un'altra dicitura Nel campo della gestione Delle acque Un tema Che non era mai Stato scalfito D'alcun governo regionale Precedente Eppure l'abbiamo preso L'abbiamo fatto Anche scontando Delle difficoltà Sul territorio Invece poi abbiamo Convinto i comuni Le province Adesso abbiamo Un ente unico Di gestione Del sistema delle acque Il cervello La regia a cui faceva Riferimento Costantini Ora io sono il primo Ad ammettere Che non tutto Va come dovrebbe andare Ma noi stiamo creando Le condizioni Affinché invece Ciò avvenga Noi però Le azioni di riforma Le stiamo facendo In concreto In realtà Nessuno in passato Aveva mai messo mano Al sistema dei confidi Eppure abbiamo fatto Un'ottima riforma Del sistema dei confidi Abbiamo fatto La legge sul commercio Stiamo intervenendo Sui consorzi industriali E poi ci sono i dati I numeri Lo ricordava il servizio L'assessore Paolo Gatti L'ottimo assessore Paolo Gatti Al lavoro e alla formazione Ha comunque messo in piedi Un sistema Che ha creato La fisicamente Dei posti di lavoro Parliamo di circa 2 mila nuove assunzioni Che non ci sarebbero state Quando Costantini Parla di consuntivi E di indicazioni Beh noi per esempio Avevamo dato come indicazione L'utilizzo dei fondi europei Fatto sta Che i fondi europei Utilizzati da Gatti Per questo aspetto O da Mauro Febbo Altrettanto bene Nel campo dell'agricoltura Ci hanno fatto fare Un balzo in avanti Notevole Cioè noi stiamo spendendo Finalmente Per la prima volta In Abruzzo I fondi che l'Unione Europea In qualche modo Ci sta dando Ci stiamo programmando Per le infrastrutture Poi è chiaro Che intervengono Dei fattori esterni Esogeni Che non dipendono da noi I fondi FAS Sulla carta ci sono Nonostante Diciamo I malauguri Di parte delle opposizioni Devono essere erogati fisicamente Tutti sanno anche Che è cambiato il governo Che è arrivato Monti Che c'è stata Una crisi internazionale E al momento Non c'è l'erogazione di cassa Noi però siamo pronti A investirli In infrastrutture Nei porti di Ortona Di Pescara Di Giulianova Per lo sviluppo Dell'aeroporto di Pescara Insomma noi ci stiamo Muovendo Ad ampio spettro Poi è chiaro Ci sono Sollecitazioni politiche Sulle quali stiamo riflettendo Io quando Costantini Parlava della regia unica Ero molto attento In particolare Perché c'è una proposta Molto interessante Intelligente Per quanto mi riguarda Proprio del coordinatore Regionale del PDL Il senatore Filippo Piccone Che ha stimolato Tutti quanti noi In regione A rifletterci E cioè La creazione Di un'unica Agenzia regionale Che si occupi In toto Dello sviluppo Della regione È un elemento Sul quale possiamo discutere E anche lì Benvenga Il contributo Delle opposizioni Come pure Una parte Delle opposizioni Ci sta dando Un contributo In quell'elemento Che per me È fondamentale Come metodo di lavoro Che è il tavolo Del patto per l'Abruzzo Chiamaroli ci ha inserito Nel discorso Delle riforme Le grandi riforme Annunciate Certi enti Strumentali Agenzie che vengono tagliate Che punto siamo Come la vede L'opposizione Passaggi Perché C'è un'agenzia Che l'ha L'ha riguardata In passato Molto direttamente La picchiera Ecco assolutamente Anche se solo Per qualche mese Mi hanno consentito Stavo facendo Troppi danni al sistema E quindi hanno pensato Bene di Disologiarmi Era pagato troppo Comunque Era pagato troppo No lo facevo gratis Veramente Ho rinunciato All'indenità Lo facevo a titolo gratuito Per quelle e per altre ragioni Probabilmente hanno fatto Hanno ritenuto Utile Liquidarmi Vabbè Vabbè Cosa apparente Si era una battuta Questa Abbiamo liquidato lento No voglio dire Il collega Chiavaroli Ricorderà Che in un consiglio Regionale Di febbraio 2009 Straordinario Chiesto dal gruppo Dell'Italia Valori E da me in particolare Si pose Il problema Della riforma Degli enti In quell'occasione Presentai un documento Che poi fu corretto E votato All'unanimità Quindi dall'opposizione Demagogica Presentò un documento Votato All'unanimità Che consentiva A Chiodi Di non rinnovare I consigli di amministrazione Partendo dalla considerazione Che nel caso in cui Avesse rinnovato I consigli di amministrazione Non avrebbe più avuto La possibilità Di fare le riforme Perché se tu fai Accomodare una persona Su una comoda poltrona Pagata 4-5 mila euro Al mese Non gli puoi chiedere Un mese dopo Aiutami a toglierti Dal sede della poltrona Perché come minimo Quello lavora Per restarci seduto Per svariati altri anni Quella scelta È stata decisiva Tant'è che In tutti gli enti In cui si è evitato Il rinnovo Del consiglio di amministrazione Si è riuscita Ad intervenire E a sopprimerli Negli unici enti In cui non ci si è riuscito Le società del trasporto Pubblico locale Non siamo riusciti A fare niente Stiamo ancora Caramico Per dimostrare Come la programmazione La progettazione La individuazione preventiva Di obiettivi E di strategie Sia assolutamente fondamentale Io credo che Un elemento Di straordinaria debolezza Del nostro sistema E martedì C'è una proposta Di legge Dell'opposizione demagogica Che si assume La responsabilità No perché poi possiamo Ti interrompo subito Possiamo parlare Mesi e anni Io credo di essere Quello che ha prodotto Di più Si può anche utilizzare Sì no no Voglio dire Spesso avete avuto De riflessi demagogici Non è un fatto personale Poi fa parte del ruolo No no Mi sento interrotto Perché immagino A quale progetto di legge Arrivi a citare Io sono peraltro Molto interessato E appassionato Se è quello Sulla pubblica amministrazione L'informatizzazione Praticamente una piccola Una piccola rivoluzione Che sarebbe piccola Da un punto di vista Dei costi Ma grande Da un punto di vista Dei benefici ai cittadini Io voglio assumermi La responsabilità Di dire Mi prendo la responsabilità Di dire Che in molti casi L'utilizzo di internet Della posta elettronica Certificata Del procedimento Rintracciabile Da un punto di vista Informatico Non è voluto Da chi sta dentro Il palazzo Perché per stare Dentro il palazzo Avere il potere Di spostare Questo pezzo di carta Da qui a qui È un potere Formidabile Perché costringe Il cittadino All'impresa A venirti a cercare La cortesia Informatizzare Il sistema Ogni riferimento È puramente casuale Ogni riferimento È puramente casuale A parecchie vicende Cioè dentro la regione Non è che ci sono tutti Stinghi di santo Credo che periodicamente Delle inchieste Riveliano che Una parte Della burocrazia Esercita i suoi poteri Per fini propri E non all'interesse Dei cittadini Allora la risposta Quale deve essere Togliere il potere Di interdizione Rispetto all'andamento Delle procedure Che troppo spesso Conservano i dirigenti E creare un meccanismo Di informatizzazione totale Che cosa prevede Questo progetto di legge Anzitutto L'utilizzo della PEC Della posta Elettronica certificata Già prevista Dal codice Dell'amministrazione digitale Approvato Dal penultimo governo Berlusconi Credo nel 2005 Obbligatoria Per tutti gli enti pubblici Alcune regioni La regione Basilicata È stata condannata Al risarcimento Dei danni In favore di un'associazione Di consumatori Perché costringe ancora Le imprese E i cittadini A parlare con i pezzi di carta Mentre oggi È obbligatorio Parlare attraverso La posta Elettronica certificata Non è una fesseria Perché costringe le imprese A fare ora di fila I cittadini A presentare pezzi di carta I dipendenti All'interno della regione A spostarsi i documenti Da una parte o dall'altra È un costo Per la collettività Insostenibile C'è poi La tracciabilità informatica Il procedimento amministrativo Per quale motivo Io per sapere A che punto si trova La mia pratica Devo andare da un dipendente La regione A dirgli per cortesia Che mi vede Come sta la mia pratica No Oggi il procedimento amministrativo Deve essere gestito Attraverso la rete E il cittadino Da casa sua Deve sapere Se il suo procedimento amministrativo Va avanti E se non va avanti Dichiera responsabilità Questo consente anche All'amministrazione Questa volta siamo d'accordo Senta Chiavarò Una curiosità In questa direzione Comunque sta andando Anche la recente Modifica di legge Prevista dall'assessore Di Dalmazio Che prevede La conferenza di servizi Telematica E una certezza Sulla durata Del procedimento amministrativo Esatto Esatto Io voglio dire questo Perché insomma Il discorso di Costantino È interessante Mi trovo d'accordo Il progetto di legge È articolato E è aperto al contributo Di tutti L'ho letto attentamente Non solo per motivi politici Ma perché sono un appassionato Anche perché Non è più sostenibile Un po' come è accaduto Con la sanità La situazione precedente Non posso Non mi sento di assumere Come PDL In questa sede Già un'indicazione precisa Diciamo che martedì Lo analizzeremo attentamente Per una serie di ragioni Appunto di risparmio Di efficienza E di trasparenza Perché poi Il dato che poneva Costantino È interessante Le strutture pubbliche La burocrazia regionale A volte Se non ci sono pecche Di carattere penale C'è comunque La tendenza Il riflesso A lavorare a compartimenti stagni E questo per noi E per i cittadini È una iattura Cioè la mano destra Non sa quello che fa la sinistra Ora lasciamo stare I casi di cronaca Di questi giorni Che però pure ci devono far riflettere Anche sulla questione Della legittimità Della classe politica Perché come si vede Non è sempre solo la politica Avere delle eventuali mele marce Ma è un sistema Un po' più generalizzato Purtroppo Dico io E si può rispondere A questi incidenti A questi episodi Con la massima trasparenza Con la massima velocità Con questi sistemi informatici E elettronici E trasparenza Quello diceva Costantini Di avere tutta una serie Di responsabilità Anche personali Cioè oggi Con questa mia legge Sappiamo una pratica In mano a chi è Non accusiamo direttamente Una società Se c'è qualcosa che non va Ma sappiamo Qual è il capo Della filiera Di questa pratica Per esempio Cioè se sbaglia L'amministratore Di una società pubblica Paga solo L'amministratore Di una società pubblica E non risponde E non risponde La società Che è il patrimonio Dei cittadini E l'altra legge Che pure è stata approvata L'anno scorso E la cosiddetta legge Sulle lobby Che in realtà È il registro Dei portatori di interesse Per cui noi cerchiamo Di avere in regione Abruzzo Anche in via informatica Un elenco Al quale si devono iscrivere Tutti quelli Che vogliono interloquire Con il consiglio regionale Con la giunta Per portare un proprio Legittimo interesse In modo da sapere Con chi parlano i politici Con quali strutture E per quali motivi Su questo c'è stato Il voto contrario Dall'Italia No Per evitare però Che ci siano appunto Accordi di sottobanco Incontri nei corridoi E così via Tutto questo per dire Che ci sono anche Dei sistemi Sui quali Penso troveremo Una condivisione Tra maggioranza e opposizione Per rendere più moderno Il sistema Perché poi Dov'è il merito E al tempo stesso La difficoltà Del Presidente Chiodi Per tornare Alla questione Che stiamo dibattendo Questa sera E che noi ci muoviamo Comunque in un sistema Italiano Un sistema Abruzzo Che è ingessato Che ha mille incrostazioni Che ha mille sistemi Anche di piccolo potere Che ricordava Carlo Costantini Per cui nessuno vuole Che si cambiano le cose In tutta questa difficoltà Io credo che Chiodi Si sia saputo muovere Si sia saputo muovere bene Anche parando Moltissimi colpi Che gli venivano Dall'interno Dalla struttura amministrativa E credo che stiamo Creando le condizioni Per una regione Più moderna Che farà bene Alla maggioranza E all'opposizione E soprattutto farà bene Alle future generazioni Che se tutto va Come sta andando Si ritroveranno Senza debiti Pagando un po' meno tasse Con un sistema Di lavoro un po' più efficace Con un sistema Dell'istruzione in Abruzzo Un po' migliore Con un sistema imprenditoriale Che sta riprendendo fiato Sentami scusi Però quando c'è una forte tassazione Un forte intervento Che ha ingessato sostanzialmente La spesa pubblica Un po' quello che sta accadendo adesso Con il governo Chiodi È accaduto È anticipato Sicuramente È stato anticipato Sicuramente E l'Abruzzo Monti guarda il mercato L'Abruzzo Ha ora le capacità Per stare sul mercato Monti fa bene Anche se poi Liberalizzazione Privatizzazione Rischiano di essere Delle parole vuote Se poi non si agisce Di conseguenza Io personalmente Sono molto favorevole Molto interessato Monti ha la fortuna Di essere Fra virgolette Un tecnico Anche se ha un forte Supporto parlamentare Quindi riesce a fare riforme Che altri governi Purtroppo anche il governo Berluscoli Non sono riusciti a portare A conclusione Per una serie di veti Innegabile Di incrociati Che si verificavano In Parlamento La stessa cosa in Abruzzo Perché era commissario Chiodi È commissario Per alcuni versi Questo è stato un vantaggio Nel senso che ha potuto agire Da solo Sia pure confrontandosi Con le forze politiche E avendo gli strumenti Giuridici per farlo Perché possa Succede sempre Che il dibattito politico Nelle aule Con le parti datoriali Insomma Qualche piccolo Episodio del genere Successo anche Nel patto per lo sviluppo Creino una serie Di blocchi contrapposti Che non portano A nessuna parte Noi però Le liberalizzazioni E le privatizzazioni Tenteremo anche di farle Per esempio Nel campo dei trasporti Tra poco ne parliamo Andiamo alla fusione Nella fusione delle aziende Vediamo di capire Per quanto mi riguarda Cerchiamo di far entrare Anche i privati Anche qualche esperienza Ce l'hanno Anche lei Ha occupato una poltrona Nel trasporto pubblico Sì L'ho usata Non l'ho occupata L'ho usata bene Spero Da quello che mi dicono Invece Proprio per chiudere Questo passaggio La gestione commissariale Ha potuto fare Determinate cose Ma adesso L'Abruzzo Ha le condizioni Per poter ripartire Nel 2012 O faticherà Più degli altri Proprio perché Le condizioni Sono cambiate L'Abruzzo Potenzialmente È la regione Che ha le condizioni Migliori In Italia Semplicemente Perché l'Abruzzo Ha delle caratteristiche Strutturali Storiche Di tessuto Imprenditoriale Naturali Che Inevitabilmente Consentono Di andare avanti Io penso per esempio Al progetto Della grande Pescara La costruzione Di questo polo Di attrazione Alla capitale Dell'Adriatico Che potrebbe diventare Un elemento di attrazione Di investimento Formidabile Penso al potenziamento Del collegamento Con Roma È inevitabile Pescara è sull'asse Con Roma Cioè è inutile investire Su Bari O su Ancona Nei collegamenti La porta Verso i Balcani Verso l'altra sponda Dell'Adriatico Della capitale È sulla carta Pescara È mancata l'intelligenza politica Per costruire questi progetti Ma io sono assolutamente convinto Che l'Abruzzo Abbia tutte le carte In regola Per riprendersi Ma perché il mondo politico Tranne che quello suo Dell'Italia dei Valori È poco È poco entusiasta Perché lo sta proponendo Costantini Della grande Pescara No io me ne sono liberato Lo sta proponendo Il collega Chiavaroli Io ho detto Faccio dieci passi indietro Perché alcuni Se sanno che la proposta è mia Non la fanno camminare Devo dargliene atto Poi ne parliamo un minuto Ecco perché io me ne sono proprio Ho detto L'ho consegnata Ad alcuni amici del PDL Che la condividono La portano avanti Io non cerco primo genitura Voglio soltanto il bene Della mia regione Esatto Posso dire una cosa Perché su questo approccio Devo dare atto a Costantini Che in realtà L'ideatore Il promotore di questa iniziativa Per una sorta di bontona Anche istituzionale Ha lasciato la prima firma A me e a noi del PDL Adesso della questione Se ne sta occupando Molto e bene Dal punto di vista istituzionale Il Presidente del Consiglio Nazario Pagano Perché quello che noi poniamo E che ha posto Carlo Costantini Con questo progetto È una nuova idea Di regione Probabilmente La grande area metropolitana Ci aiuta A ridurre i costi A migliorare i servizi A ottenere maggiori risorse Quindi in realtà Sia l'opinione pubblica Ma sia anche gli imprenditori Sono molto favorevoli A questo progetto Forse c'è qualche freno Dalla burocrazia politica interna Ma vedremo di parlarne meglio Perché qualche poltrona Sicuramente Ma sì Però io non credo Che qualche egoismo del genere Possa abbrucciare Un progetto che in questa fase Per quello che ha proposto Carlo Costantini Con me Riguarda Pescara Montesilvano E Spoltore Ma il modello Si può esportare Ad altre realtà regionali Ci fermiamo un minuto E poi trasporto pubblico locale E poi trasporto pubblico locale